Musica Ho pagato il vostro caro Dexter per fare il video su di me Non è vero, ciao a tutti da Visto Avvistato E oggi andremo a vedere tutte le cose che sono capitate su di me Non esattamente, però adesso andiamo a scoprire bene il tutto Allora innanzitutto non ho pagato il vostro caro Dexter Gli ho dato solamente 100 litri di latte e poi lui ha detto Si dai faccio il video su di te Allora, lui fece due video su di me Anzi fece un video su di me l'anno scorso a dicembre Non mi ricordo il giorno, non mi ricordo niente E vabbè, fece un video su di me che si chiama Verità Oscura sul vostro caro Dexter Trovate il video in descrizione se non l'avete mai visto Troverete anche quello che ha fatto ieri, il 2 novembre Ha deciso lui di commentare il mio video perché lui alcune volte Capita che commenta dei video su internet su di lui, robe del genere Quindi non è che io l'ho dovuto pagare per fare quel video Perché una persona in particolare ha detto che ho pagato il vostro caro Dexter Innanzitutto, no! Perché dovrei pagarlo? Cioè perché dovrei pagare il vostro caro Dexter per fare un video su di me? Anche perché adesso che Dexter ha fatto il video su di me Posso pagare FabiJ? O sbaglio? Arriveranno molte verità oscure su altri youtuber Specialmente su non vi dico chi, non vi dico chi Quindi dovete iscrivervi innanzitutto al canale per rimanere aggiornati E guardare tutti i miei video così capite bene come faccio i video Lo dico per i nuovi iscritti, sarete circa mille i nuovi iscritti Ne avevo 5.000, saremo a 6.000 adesso, penso, qualcosa del genere Adesso io sono famoso, scusate, devo andare e vabbè, ciao Ma sto scherzando, ovviamente visto avvistato rimane sempre qua con voi Con un video al giorno Ho saltato i due giorni perché sono stato a Roma, vabbè Comunque ringrazio il vostro caro Dexter per aver preso in considerazione il mio video Spero che si sia divertito guardando il mio video Se non sei divertito, no dai, un pochino, almeno il 10% sei divertito Dai, almeno il 10% Spero almeno il 10% Vabbè, iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati Lascia un mi piace, un commento E basta, guarda tutti gli altri miei video E ciao a tutti da... Visto Lattaio